La Mondadori fu sottratta a De Benedetti grazie alla corruzione del giudice Vittorio Metta da parte di Cesare Previti con fondi neri Fininvest attraverso l'offshore All Iberian. Così ha stabilito nel 2007 una sentenza definitiva. Per questo il 3 ottobre 2009 il giudice Raimondo Mesiano condanna Fininvest a pagare 750 milioni di euro alla CIR. Il 9 luglio 2011 la Corte d'Appello di Milano corregge le cifre al ribasso ma conferma la condanna da 750 milioni si abbassa a 540. Quest'anno il processo arriva in Cassazione. L'ultima udienza è del 26 giugno 2013, riporta il Corriere della Sera. La sentenza, con tutta probabilità, arriverà entro agosto. In realtà arriverà il 13 settembre. Conferma la condanna ma applica uno sconto alla Fininvest che dovrà versare alla CIR 494 milioni di euro, per Berlusconi comunque troppi. Dall'ultima udienza sono passati 48 giorni. È su questo ritardo che Berlusconi coltiva i suoi dubbi e lancia le sue accuse. Riascoltiamo cosa ha detto. Mi è stato detto che il capo dello Stato dovrebbe telefonato per avere la certifica, prima che venisse pubblicata. Dopo di chiedere, telefonato da capo, ho fatto il telefonare da lupo al Presidente della Cassazione. Mi ha chiamato il Presidente di Sessione costringendo a riaprire la Camera di Consiglio. Quale che non succede mai? Ma chi è il lupo al quale si sarebbe rivolto Napolitano? L'ipotesi più verosimile è che Berlusconi si riferisca ad Ernesto Lupo. È stato primo Presidente della Corte di Cassazione dal 2010 fino al maggio scorso. Oggi è il consigliere giuridico della Presidenza della Repubblica, in carico ricoperto in precedenza dallo scomparso Loris D'Ambrosio. Mi è stato detto che il capo dello Stato avrebbe telefonato per avere la certifica, questa è la giuridico della Repubblica. Dopo di chiedere, telefonato da capo, ho fatto il telefonare da lupo al Presidente della Cassazione. Mi ha chiamato il Presidente di Sessione costringendo a riaprire la Camera di Consiglio. Quale che non succede mai. Perché la sentenza è resa pronta il 27 giugno. e riaprendo la Camera di Consiglio hanno porto circa 200 milioni di quelli da cui interdepende il Presidente della Presidenza. E' una cosa gravissima. L'ho fatto ascoltare nella quale Berlusconi lamenta ingerenze del culinale sui vertici della Cassazione, sull'Odo Mondadori. Quindi è stato un incubo, diciamo, occhi aperti di Silvio Berlusconi.